Buongiorno al neoconfermato sottosegretario agli esteri Maglio Di Stefano, Movimento 5 Stelle. Buongiorno Di Stefano, bentornato a Studio 24. E buongiorno a Daniela Manca, vice direttore del Corriere della Sera. Eccolo qua, lo vediamo collegato. Buongiorno. Buongiorno a voi. Di Stefano, io riparto dall'addio al nostro ambasciatore in Congo e dal suo carabiniere di scorta, ieri funerari di Stato. Lo dico perché, ovviamente lei è la Farnesina, ma la stampa quest'oggi riporta di una richiesta nel 2018, proprio da parte di Atanasio, di raddoppiare la propria scorta, una richiesta che la Farnesina avrebbe negato, ribadiamo, anno 2018. Sì, intanto ricordiamo anche l'autista, perché poi sono tutte delle squadre che lavorano insieme e la Farnesina chiaramente tratta tutti i contrattisti come gli ambasciatori allo stesso modo. Io credo che ci sia poco da fare polemica su questo caso. Ho sentito purtroppo anche qualche intervento spiacevole in aula durante la relazione del ministro Di Maio. Questa era una missione che purtroppo, visto gli esiti, era gestita dalle Nazioni Unite, perché era, faceva parte del programma alimentare e quindi il nostro ambasciatore era lì non in missione, diciamo, come ambasciatore italiano per i programmi d'ambasciata, ma come osservatore della missione delle Nazioni Unite. E il che ha dato a loro la responsabilità della sicurezza e purtroppo evidentemente è stata gestita male. Su questo chiaramente, il ministro ha detto chiaramente, abbiamo chiesto tutti i dati e le informazioni possibili per capire dove ci sono responsabilità e chi deve pagare per questo. La Farnesina fa un controllo, diciamo, dei livelli di sicurezza di tutte le nostre ambasciate cosiddette disagiate in base ai report delle varie intelligence internazionali. E quindi chiaramente valuta il contingente di scorta e la sicurezza dell'ambasciata per le attività che è chiamata a fare. Ecco, qui purtroppo, ripeto, andavamo al di là delle attività nella città, quindi a Kishasa, e quindi anche se l'ambasciatore avesse avuto il doppio della scorta e l'auto blindata, sarebbero rimasti a Kishasa perché lì eravamo a 2500 km di distanza in mano a un convoglio Nazioni Unite. Quindi non sarebbe cambiato nulla, purtroppo, per lui e per la sua famiglia. Chiaro. La stritta attualità di Stefano ci riporta ai dati della pandemia. Sono quasi 20.000 i nuovi contagi. Si parla delle chiusure di Pasqua, però la politica litiga su questo fronte, con Salvini che dice è irrispettoso solo poter pensare di continuare a chiudere. Qual è la linea del governo? Io con tutto il rispetto non mi interrogo più dei cambi di parere di Salvini, che è un continuo di apri e chiudi, apri e chiudi. Il parere del governo è lo stesso che è stato da un anno a questa parte, cioè il parere del CTS, del Comune Tecnico Scientifico, ci dà un'indicazione. Il governo deve soltanto poi capire come far sì che questa indicazione non sia un dramma a livello economico e sociale per i cittadini e quindi ristori e aiuto alle famiglie. Quello è quello che continuiamo a fare da un anno e che continuiamo a fare anche ora perché stiamo parlando di saluto dei cittadini, non è che la Pasqua diventa un momento di tana libera a tutti. Purtroppo l'abbiamo visto con le riaperture, in pochi giorni sono schizzati nuovi casi in alto. Di conseguenza bisogna stare molto attenti. La provocazione si sente più liberale o moderato? Perché insomma, per dirla con Di Maio, parole ieri rilasciate a Repubblica, e non sono piaciute proprio a tutti queste parole all'interno del Movimento? Io credo che vada preso atto di una cosa. Io sono perfettamente in linea e in sintonia con quello che ha detto Di Maio in quell'intervista ieri perché va chiarito a tutti che il Movimento non è nato per farsi vanto dell'essere rivoluzionario. Il Movimento è nato per risolvere i problemi. Oggi il Paese è in una condizione in cui non ha bisogno di gente alla Salvini o alla Meloni o alla Renzi anche ogni tanto, che urla cercando di farsi spazio politico. Il Movimento è chiamato a aiutare i cittadini a risolvere dei problemi, essendo prima forze di maggioranza in Parlamento. Il che significa, come dice Luigi Di Maio nell'intervista di ieri, essere moderati. Moderati vuol dire nel linguaggio e nei modi, ma efficaci nelle risposte che si danno. In questa settimana dove siamo stati al governo Draghi, altro tema che ha scatenato polemiche, abbiamo sventato la cancellazione della riforma e della prescrizione di Bonafede, abbiamo prorogato il mercato di tutela per le energie e quindi non saliranno le bollette energetiche, è sventato già un altro agguato alla trivellazione e quindi garantiamo ancora una lotta ambientalista. In tutto questo Buffagni parla di gestione disastrosa dei Cinque Stelle, Bugani accusa siamo diventati la costola di Berlusconi, Dessi se ne va, insomma le fibrillazioni continuano. Quanta gente come Buffagni, Bugani e Dessi vuole che li citi invece che sono soddisfatti di quello che si sta facendo? Sono dei pareri, accetto i pareri, li rispetto, ma non sono chiaramente... D'altronde la maggioranza degli iscritti al Movimento Cinque Stelle ha votato per sostenerlo il governo Draghi, quindi questa gente deve prendere atto del fatto che sono in minoranza evidentemente se la pensano così, ci sta in democrazia, no? Per chiedergli appunto quale futuro per Conte, perché si parla di una figura quale presidente del Movimento oppure a capo del direttorio, insomma ci dovrebbe essere un vertice domenica a Casa di Grillo, a Bibbona, per capire quale sarà il futuro di Giuseppe Conte. Io vi posso dire che il mio auspicio e l'auspicio di tutto il Movimento è che Conte possa avere un ruolo di primo piano nel nostro gruppo. Significa che il tipo di ruolo non sarà un problema da trovare. Io mi auguro che possa essere il prossimo capo politico del Movimento Cinque Stelle, però chiaramente chiediamo a lui... All'interno di un direttorio di Stefano, cioè capo politico all'interno di un organo più ampio? Io credo che, ripeto, qualunque formato vada bene, ma credo che lui abbia comunque bisogno di essere aiutato in un'esperienza che per lui comunque è nuova, non è stato un capo politico fino ad oggi, ha fatto il presidente del Consiglio sostanzialmente senza pregresso politico, quindi noi daremo le condizioni affinché lui possa operare al meglio qualora dovesse decidere di far parte del Movimento Cinque Stelle in modo strutturale. È una scelta che deve fare lui e noi possiamo chiaramente favorirlo affinché tutti gli ostacoli che ci sono stati in questi ultimi anni vengano rimosti. È il momento per il Movimento Cinque Stelle di fare, come ho detto ieri alle agenzie, e l'ultimo scatto verso una maturazione politica che è stata in tempi di record. Devo chiudere ho poco tempo, però questa scelta di Conte, questa eventuale discesa in campo, in un campo politico inedito, come appunto Di Stefano rimarca, potrebbe aiutare a ricomporre una frattura anche con qualcuno che è uscito, che sta uscendo, penso a Di Battista? Ma guardi, io credo che le uscite di questi giorni siano frutto della non comprensione del momento storico. Siccome invece Conte sarebbe chiaramente una continuità con questa nostra nuova visione del Movimento, non credo che andrebbe a ricomporre queste fratture. Però sicuramente compatterebbe i gruppi parlamentari, che dal mio punto di vista è la cosa più importante. Allora, grazie Maglio Di Stefano, sottosegretario alla Farnesina.